vai via con lo spirito di sempre e con l'occhio rivolto sempre al futuro auguri poste italiane da vadova auguri per i 160 anni di poste bohara pisani per i tuoi 160 anni e anche a tutti noi dall'ufficio costale di preseo i poste per i tuoi 160 anni cara poste italiane tanti auguri dalla squadra premium per i tuoi 160 anni auguri a poste italiane dalla squadra commerciale di padova all'arena di perona auguri tamara ufficio postale asolo maria elena ufficio postale di san pietro di barbozza auguriamo a poste altri 160 anni auguri ciao 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 c'è ciao ciao Grazie.